Oggi inaugurazione della strada Postilli-Riccio, un'opera molto importante che era sentita dalla cittadinanza ed è quindi un sogno realizzato, vero Sindaco Dottavio? Certamente, oggi abbiamo inaugurato la strada Postilli, un'opera importante per Ortona, per questo territorio, per la città in tutta quanta e ovviamente un'opera che ha visto il suo nasce nel 2004, dopo nove anni finalmente arriva a concretezza e ci ha creduto la vecchia amministrazione, oggi rappresenta anche il mio predecessore, l'ingegnere Nicola Fratino ci abbiamo creduto anche noi, per cui mi sento di ringraziare tutti, ovviamente l'amministrazione che ho l'onore di guidare e rappresentare i tecnici, tutti quanti, la ditta spinosa, ci siamo, oggi diciamo un giorno veramente importante che lega questo territorio ovviamente a un turismo che sia di spessore Solitamente si dice sposa bagnata, sposa fortunata, in questo caso la pioggia c'è stata È proprio il caso di oggi e spero che anche in altre occasioni, per altre inaugurazioni, sia sempre così, me lo auguro Ovviamente anche il Vice Sindaco Roberto Serafini si è fatto partecipe per riuscire ad accelerare i tempi di realizzazione di quest'opera ed esprime la sua soddisfazione Certamente dopo tanti anni questa strada dà una risposta ai bisogni di questo territorio E quindi siamo contenti di questo evento che ha avuto una spesa di circa 6 milioni e mezzo se non erro Che noi a suo tempo pur stando l'opposizione come Margherita votammo E questo voglio dire che a volte delle opere importanti trovano a prescindere dei ruoli nel tempo Oggi sono ribaltati questi ruoli Ma a suo tempo noi come Margherita, io e il Sindaco d'Ottavio votammo a favore pur stando l'opposizione Un'opera che ha avuto un contrasto con la ditta, un contenzioso iniziale Che poi col buon senso, con la capacità e il razzucinio Le parti sono riuscite a trovare una composizione e quindi oggi hanno completato l'opera Siamo soddisfatti Io un ringraziamento particolare vorrei farlo alla struttura del terzo settore comune di Ortona Al dirigente, all'ingegner Pasquini e soprattutto al geometra di Nicola Antonio Che è stata la presenza continua, quella che ha controllato nell'interesse della comunità, della città l'opera E che ci ha garantito oggi questo risultato Mi sembra manca qualche quisquiglia direbbe Totò, tra qualche mese verrà ultimato Sì, manca il sottopasso ferroviario, quello che collegherà la parte terminale di questa strada con la statale 16 Abbiamo già appaltato i lavori, un lavoro modesto che però richiederà forse un mesetto di lavoro E poi verrà collegato in maniera completa Stiamo pensando anche ai parcheggi perché la strada originalmente non prevedeva delle aree di parcheggio Stiamo elaborando un progetto in modo tale che non si verificano intralci durante la stagione estiva Con i bagnanti, con i turisti che vorranno sicuramente approfittare di questa strada Che apre uno scenario, un panorama e un territorio prima irraggiungibile Tommaso Coletti, capogruppo di maggioranza al Comune di Urtona Ovviamente soddisfatto per la realizzazione di quest'opera Tra l'altro in una località che è stata oggetto di discussione in uno degli ultimi consigli comunali Per una presunta, probabile, forse non più auspicabile scissione Ed approdo nel Comune di Francavilla Io penso che questo non sia più all'ordine del giorno In quanto, come abbiamo avuto la possibilità di verificare questa mattina Con noi anche il Sindaco di Francavilla, Antonio Luciani Che condivide con noi il percorso che stiamo facendo Cioè quello di valorizzare tutte le zone a confine Quindi tutta l'area che appartiene a Francavilla ma che non è stata valorizzata E che appartiene a Urtona e che non ancora viene valorizzata Quindi è un'opera che sicuramente darà soddisfazione ai cittadini di questa zona Per quanto riguarda la potenzialità dello sviluppo che ha creato in questa circostanza Questa strada che entra a Postilli e esce alla stazione di Tollo Sicuramente non solo renderà possibile usufruire della bellezza di questo paesaggio Ma anche per gli stabilimenti balneari e anche per gli stessi cittadini E poi decongestiona anche un po' il traffico sulla Statale 16 Che nella zona del centro abitato del Foro crea qualche problema in varie circostanze Ma non solo la strada, adesso dobbiamo rifare il piano regolatore Stiamo portando la rete metanifera in questa frazione I servizi che non ci sono saranno realizzati tutti E quindi io penso che i cittadini di questa zona Della Conrada Foro e della Conrada Postilli Potranno stare tranquilli in quanto l'amministrazione comunale Così come fa per i quartieri del centro urbano Per le altre frazioni di Ortona Ortona ha 56 frazioni Quindi sono tante Così come fa per tutte queste altre realtà Anche per la zona di Postilli e del Foro Darà tutto quello possibile Per realizzare una vivibilità più dignitosa per tutti i cittadini E quindi oggi è stata una bella giornata Per l'amministrazione d'Ottavio Ma io voglio dire anche per chi ha realizzato La gran parte di questa strada L'amministrazione precedente Nichi Fradino che è stato sindaco della città per dieci anni Questa mattina è stato con noi alla inaugurazione Non solo ma voglio ringraziare anche l'assessore ai trasporti Che ho cercato di contattare in questi giorni L'ex assessore ai trasporti Mario Amicone Che è stato l'artefice della programmazione di interventi di questo genere E quindi ha pensato anche a un intervento di questo genere Quando lui era assessore regionale ai trasporti appunto E quindi è stata un'opera realizzata È un'opera realizzata con l'impegno condiviso Da parte di varie amministrazioni Anche di colore politico diverso E quindi insomma io penso che è una cosa positiva Su cui i cittadini devono riflettere E avere fiducia nelle istituzioni Presente all'inaugurazione anche il sindaco di Francavilla Antonio Luciani Poco fa il senatore Coletti Ringraziava anche per la collaborazione il suo comune Perché questa era una zona un po' contesa Anche tra Francavilla e Ortona Essendo a confine e geograficamente molto vicino al vostro comune Sì, in verità lo sbocco della strada L'abitato è praticamente sul territorio di Francavilla Tant'è vero che ci siamo ripromessi Insieme di regolamentare meglio questo confine Che oggi è una linea ideale Ma non corrisponde alla divisione effettiva del territorio Le due amministrazioni sono amiche Intanto c'è questa opera che è una grande opera E che permette a questa zona uno sviluppo notevole Poi sicuramente riusciremo a trovare il punto di uscita anche dell'altro problema Francavilla adesso molto attiva L'abbiamo vista anche sul Rai 3 l'altro giorno Che cosa avete in ballo per l'estate? Abbiamo in ballo una iniziativa per la quale siamo i primi a livello nazionale Quindi con orgoglio dico un'idea semplice ma geniale Noi abbiamo trasformato Francavilla nel più grande villaggio turistico diffuso d'Italia Si chiama Francavillage E i nostri turisti ma anche i nostri residenti Tutti coloro che vorranno venire a Francavilla Verranno trattati come viene trattato un turista, un avventore in un villaggio turistico Semplicemente mettendo in rete ciò che noi abbiamo